Un'attività che nasce da uno sport individuale è diventata un'attività molto famosa e molto praticata nell'attività di team building, l'orienti ring. Cos'è l'orienti ring? L'orienti ring nasce nei paesi scandinavi come corsa di orientamento, attività nella quale bisogna con una mappa molto particolare trovare dei punti lanterna in boschio o comunque in aree non sicuramente urbane. L'attività che si propone per le aziende è quella di cercare questi stessi punti in aree boschive ma dovendo decidere insieme su una mappa che è una mappa molto particolare perché chiaramente siamo abituati a cercare un indirizzo, cercare una strada, cercare un incrocio, non ci riesce molto facile riconoscere un territorio guardando le ISO IPS oppure le curve di livello che dir si voglia o altri riferimenti naturali e quando magari ci vengono meno questi riferimenti il gruppo deve interagire e comprendere un linguaggio che è quello della mappa molto diverso e quindi bisogna entrare a comprendere un linguaggio diverso e prendere delle decisioni, capire chi guiderà il team in quale direzione. In pochi minuti, un'oretta o due si concentrano tantissime dinamiche di gruppo perché bisogna prendere delle decisioni e molto spesso c'è qualcuno che dice secondo me bisogna andare di là, ma secondo me perché? Qual è il riferimento? Qual è l'interpretazione che tu hai dato di questo linguaggio? C'è una riflessione? E quindi è un'attività molto formativa perché si tratta di prendere decisioni, se il gruppo viaggia nella direzione sbagliata tutti devono tornare indietro e ripercorrere la strada fatta due volte, quindi è un'attività che può essere anche faticosa. Teniamo in considerazione il fatto che l'orienting viene svolto all'aperto per cui siamo in balia del meteo, può essere una giornata piena di sole e anche questo può essere un problema, oppure può esserci una giornata di pioggia e il problema ovviamente è evidente, quindi bisogna capire bene, fare delle scelte e soprattutto poi cerchiamo sempre di condire l'attività di orienting inserendo all'interno dei punti lanterna degli ulteriori enigmi, delle attività che poi possono rendere più interessante il lavoro del team una volta giunti a destinazione, per cui non diventa soltanto un orienting, ma cerchiamo di mixarlo con altre attività che conosciamo bene, dove il team deve superare delle prove per capire come ottenere le indicazioni per arrivare al punto lanterna successivo. Bella attività all'orienting!